che lucare qui non sono tutto per i giovani che lasciano il terreno come Agnabella perché a loco lenti non stanno facendo niente sindichi su tutta la stessa maniera questo parco qua non bastano i cinghiali cornacce gazzalatra gazzagliandai come si chiamano qua stanno rovinando l'ecologia si stanno distruggendo è venuto qui per 80 anni perché sono stato fisso in delle macce montagna calcio a funghi notte a giorno questi uccelletti piccoli stanno sparando e su tutto quello che saccheggiano questo soprannumero è una bestia ora la comunità montana ha messo la tasta per i funghi giusto ma quanta fungheria stanno stanno annullando il palario perché i cinghiali non stanno fermi da pagano adesso la gente prende il pano che i funghi siano si rendono con l'ecologia non esiste più stai sparando giorno per giorno e di qui hanno morto perfino la gente in mezzo alla strada io quello che voglio io non voglio niente contributi non voglio niente quello che voglio direttamente è già stare libero perché questi danni qua che vengono qua per mettere 70 euro manco chi di manorati e ne ha pigliato per culo completamente a queste condizioni qua noi che costituiamo qua teniamo un sangue da luoghi non se ne potete più pigliassero una via perché questo qua si rischia con la gioventù nuova che viene da guerra civile sicuro arriva da guerra civile perché tra tassi tra tutto cosa qua non se ne capisce niente di più loro dormono per l'amore di dio il parco deve rumanire perché se non rumanire il parco è il suo guai perché domani uno che vuole mettere un'attività al giorno che sta calato c'è il rompo del parco è una grande cosa deve rumanire il parco non ti tocca però a dare l'incontro a questi guai cagate niente la Germania ha già cattato i 6-7 ettari di terreno qui ci ha già fatto delle bonifiche senza una lira nessuno ma stanno qua per non essere ammazzati qui io arrivo la mattina stavo come una bella qui arrivo per mi rilassare per questo guaieto vengo qui a mangiarrabbiato a giudere le nuci stamattina da tutti taccariati di segnali ma ti capite cosa succede qui che tutti i giorni Cristo non è che si si affermava eboli si affermava patano e ne aiuta niente più pigliate un'iniziativa e venite che volete fare io già da quei 50 anni ne porto l'arma non posso prendere le scoperte più perché se si spavano le cornette vanno in galera se si spavano il geniale vanno in galera porto l'arma abusiva ma voi addostate il cavacapone creassero i posti di lavoro delle strutture e allo stesso tempo se si fa gestire del nostro degli agriturismi guardate le fissure ne parla tutti i giorni la dietro pittiterranea siamo al centro e non c'è nessuno a pettolo a casa si cacca 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 pizza cacca ruva cacca 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 il ristorante guarda che catevi palati ma hai capito a me? allora se deve creare qua che abbiamo tutto degli agriturismi fatti come si deve dei vigneti come fanno la parte che sono sordi il meglio viene olio è in una zona ruciliente quando si fa finita e sapere che si ha da fare i giovani non derono tutti i colpi venite che c'è la zampa vostra che non vengono dove presentate questa politica questa politica fasola è una politica fasola senza nessun risultato di avvenire ma dobbiamo grazie